Perché alla fine, alla fine di questa avventura, a me interesserà una cosa sola. Sapere che abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare per dare agli italiani una nazione migliore. A volte riusciremo, a volte falliremo, ma state certi che non indietreggeremo, non getteremo la spugna, non tradiremo. Nel giorno in cui il nostro governo ha giurato nelle mani del capo dello Stato, ricorreva la memoria liturgica di Giovanni Paolo II, un pontefice, uno statista, un santo, che io ho avuto l'onore di conoscere personalmente. Mi ha insegnato una cosa fondamentale, della quale io ho sempre fatto tesoro, la libertà di scelta. Non consiste nel fare ciò che ci piace, ma nell'avere il diritto di fare ciò che si deve. Io sono sempre una persona libera, sarò sempre una persona libera, e per questo intendo fare esattamente quello che devo. Grazie. 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 Grazie.